Il tema delle sanzioni amministrative della chiusura momentanea per alcuni locali del centro storico da parte della polizia di stato nei giorni scorsi ha riacceso un po' ai riflettori in città sull'argomento dopo gli episodi in piazza Regina Margherita dove hanno agito degli agenti in borghese con il bilancio finale di tre locali sanzionati e la sospensione dell'attività per 5 giorni e dove alcuni cittadini stessi avevano segnalato la presenza di troppi giovani. Il discorso è molto complesso ed è difficile liquidarlo con poco. Ci sono da una parte gestori fiaccati evidentemente dalla situazione, ci sono i comportamenti individuali degli avventori, c'è il rispetto delle regole che ovviamente le forze dell'ordine sono tenute a far osservare. Il questore Gennaro Capoluongo nel mezzo prova a cercare un punto di equilibrio. Non vogliamo essere decensori, afferma, vogliamo piuttosto aiutare, consigliare, dialogare, ma laddove non ci sia il rispetto delle regole è nostro dovere intervenire. Non vorrei che l'episodio della sanzione a dei locali possa suscitare nei cittadini una sorta di incomprensione rispetto all'attività che fanno le forze di polizia e che sono state fatte dal primo momento che vi è stata questa emergenza sanitaria. Noi abbiamo rispettato quelli che erano i nostri doveri, i nostri compiti, abbiamo peraltro come voi ben sapete utilizzato la sanzione come extrema razio. È stata fatta un'attività informativa proprio da questa questura e partita anche la campagna con dei volantini in accordo con i comuni, con i gestori di locali, eccetera, proprio per sensibilizzare non solo appunto gli esercenti commerciali, ma anche i cittadini ad avere un comportamento corretto, soprattutto a difesa della loro salute e della salute della collettività. Se dovessi tracciare diciamo un consuntivo direi l'attività di polizia c'è stata sempre, ma devo dire che anche i cittadini sono stati molto responsabili e quindi certo delle sanzioni ci sono state, ma quelle sanzioni, come dire, sono state determinate da quei pochi che non hanno rispettato le regole. Il consuntivo mi sembra che sia abbastanza positivo, insomma la città noto che vi è stato anche un decremento delle attività criminali, sicuramente dovute alla poca mobilità, ma aggiungerei a questo il forte impegno che vi è stato da parte delle forze di polizia nell'assicurare questo stato di tranquillità e tranquillità sociale. In tutta questa situazione ovviamente c'è il punto di vista dei gestori, alcuni hanno già annunciato di voler far ricorso, per i legali non ci sarebbe il presupposto per la sanzione e per la sospensione dell'attività.